Cercate un lavoro? Con la nuova rubrica di TV Molise vi mostreremo le posizioni aperte a cui potrete candidarvi facilmente. Iniziamo! È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di geometra, ingegnere o architetto per studio tecnico. Si propone contratto in base alle esigenze o a tempo determinato di apprendistato, di chirocinio o compartita IVA. I requisiti richiesti sono per la figura di geometra il possesso del diploma di geometra, per la figura di ingegnere e architetto il possesso delle lauree di riferimento. Inoltre, per tutte le figure è necessaria la conoscenza della lingua inglese almeno a livello scolastico e le conoscenze tecnico-informatiche con particolare riferimento a Windows ed Autorad. La sede di lavoro è obbligata in macchia godena. Il codice identificativo della domanda è il numero 55. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di imbianchino stuccatore nel settore dell'edilizia. Si propone contratto a tempo determinato. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso della patente B ed è inoltre necessario essere automunito, mentre non è necessaria una precedente esperienza nella mansione. La sede di lavoro è obbligata a livello regionale zone limitrofe. Il codice identificativo della domanda è il numero 52. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di manovale edile e muratore nel settore edile. Si propone contratto a tempo determinato con la possibilità di proroga. I requisiti richiesti sono il possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado ed avere la patente B, oltre che essere automunito. Inoltre è necessaria una precedente esperienza nel settore ed avere buone conoscenze linguistiche di base. La sede di lavoro è obbligata in Isernia, zone limitrofe. Il codice identificativo della domanda è il numero 50. È richiesta una risorsa da inquadrare nel profilo di addetto al trapano a bandiera nel settore metalmeccanico industriale. Si propone contratto a tempo pieno e determinato della durata di due mesi. I requisiti richiesti sono l'essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, il possesso della patente B, una precedente esperienza nel settore, una conoscenza linguistica di livello scolastico. Altresì non è necessario essere automunito. La sede di lavoro è obbligata in Benafro. Il codice identificativo della domanda è il numero 54. Per candidarvi alle posizioni aperte inviate la domanda all'indirizzo di posta elettronica ido.ischiocciolamolisellavoro.it oppure all'indirizzo ido.lavoratori.cp.cb.chiocciolamolisellavoro.it entro i termini previsti per ciascun bando indicando nell'oggetto della mail il numero della ricerca di personale o il profilo professionale per cui ci si candida. Grazie a tutti.